Due signore al lavatoio che stanno lavando i panni, una dice all'altra Rina, hai mai provato l'orgasmo? No, io mi trovo tanto bene con la candeggina Rina, tu ci parli con tuo marito mentre fai l'amore? Sì, se mi telefona Rina, come va il tuo mal di testa? Molto bene, è già andato al lavoro